Sono tante, sono 84 le compagnie che hanno inviato i propri lavori al Fezio e questo è il primo dato di grande soddisfazione perché è a testimonianza di una crescita lenta, direi ma inesorabile, una ripresa inesorabile dell'attività. Quindi siamo molto contenti, anche se ovviamente tanti lavori ha significato anche tanta fatica da parte della Commissione che ringrazio una volta di più la Commissione Selezionatrice, composta oltre che da me, da Giuseppe Sposto, Barbara Lorenzi e Ortenzio Rivelli. Quindi otto gli spettacoli che abbiamo scelto per il concorso, più due fuori concorso e piano piano anche le prossime settimane saranno anche quelle in cui annunceremo tutto il programma nella sua completezza del festival. Ma intanto a contendersi i premi del nostro concorso ci saranno questi fantasmi della compagnia La Piccola Ribalta di Pesaro, Ubu Re della compagnia La Satirion Teatro di Leporano, Taranto, Kraken, favola alla deriva dell'Associazione Culturale Teatro degli Oscuri di Campagna, Salerno, Smith & Wesson della compagnia Il Grappolo APS di Siena, Tre sull'Altalena della compagnia Ronzinante Teatro di Merate e Lecco, Stravaganza dell'Associazione Culturale Libertamente di Monza, La Locomotiva dell'Associazione Culturale Il Satiro APS di Treviso e Edipore della compagnia Calandra di Tuglie Lecce. Il programma è completato dalla riproposta del contenitore Vettrina Pesaro, un omaggio all'attività teatrale del territorio. Lo scorso anno abbiamo presentato alcune delle più significative compagnie del nostro territorio. Quest'anno abbiamo presentato e dedicato la nostra osservazione privilegiata all'attività pesarese agli autori. Quindi una serata in cui verranno proposti due monologhi, uno al maschile e uno al femminile, scritti da un'autrice, Giulia Terenze, un autore, Mauri Incen, pesaresi, che appunto presenteranno due monologhi in questa insolita formula in cui due spettacoli si sussegueranno all'interno della stessa serata. Il festival sarà in scena dal 20 al 31 ottobre tutti i giorni al teatro sperimentale a causa dei lavori che coinvolgeranno il teatro Rossini e che quindi lo renderanno non disponibile per questa edizione. L'impegno di questa presidenza parte con i piedi giusti. È un'iniziativa molto importante, è un festival importante anche quest'anno, nonostante la pandemia. Le opere, come ha detto Cristian della Chiara, le opere scelte sono di grande qualità, è di espressione quindi che il festival ancora attira delle compagnie che hanno delle basi solide e delle voglie di primeggiare in campo nazionale. Questo è un festival nazionale molto importante, conosciuto e quindi ci sono tutte le premesse perché anche quest'anno possa andare bene. Ovviamente la pandemia che ci ha colpito in questi due anni ci ha parzialmente penalizzati, però noi siamo stati abbastanza lungimiranti e forti per poter superare anche questo periodo.